Alecco e Sondrio segno più per il mattone e quanto emerge dal rapporto 2017 sul mercato degli immobili in Lombardia presentato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.ita. Le transazioni sono in aumento, tendenza che si registra in tutta la nostra regione, territorio dove si concentra oltre il 22% delle compravendite residenziali nazionali stimate per il 2017. E Sondrio mostra le performance migliori. Le transazioni nel capologo valtrinese hanno dato avvio alla ripresa nel 2016 e quest'anno hanno continuato sulla stessa scia con 320 unità oggetto di compravendita nel 2017. Il trend positivo, si legge la nota che accompagna il rapporto di Scenari Immobiliari, permette di stimare una variazione del 10,3% con segno positivo per la fine dell'anno che continuerà nel 2018 per arrivare a 350 abitazioni compravendute. Il fatturato oggi è attestato 39 milioni di euro a Sondrio, l'anno prossimo arriverà a quota 40 milioni. Buone notizie anche da Lecco. Nel 2017 in città è stato rilevato un aumento in tutti i principali indicatori di mercato, con le compravendite che si attestano a 700 unità, in aumento del 7,6% sul 2016. Le transazioni, anticipa il dossier, continueranno il trend positivo nel 2018 con 770 transazioni stimate per la fine dell'anno, circa il 10% in più rispetto alla 2017. A Lecco il fatturato quest'anno si attesta a 133 milioni e nel 2018 si prevede un incremento fino a quota 143 milioni. Migliora la situazione dei prezzi medinominali delle case, anche se il fenomeno è a macchia di lopardo. A Sondrio nel 2017 i quartieri centrali riportano un incremento del 2%, mentre semicentro e periferia perdono rispettivamente il 3 e il 4,5%. A Lecco i prezzi medi in centro città registrano un aumento dell'1,4%, in semicentro dello 0,9%, calo del 3,8% in periferia.